ok ciao a tutti ragazzi oggi ragazzi facciamo una battaglia reale nello scorso episodio abbiamo fatto la creativa allora non ti preoccupare se lo vuoi vedere Foxy basta che vai su youtube allora dai metti la monedità pronto c'è da dire sono più bravo io nel parkour io che balletto c'ho io questo che musica no va bene basta allora can you see one and two one and two five can you see can you see can you see can you see come sta can you see can you see can you see 3, 2, 1, let's go c'è più per strelli che escono dalla scia fighissimo è più l'etàplano che lontano figo tanto si apre da sola ok allora io vado nella casa gialla vabbè vado io qua vado nella casa bianca dai ok io sono nella casa bianca fatta anche di mattoni vediamo non c'è niente ho detto questa casa bravo ah c'è una casa qua su tanto grande non ci credo ho trovato l'arma più schifosa del mondo ho fatto il fucile la precisione cosa ci faccio ciò con un cecchino ma c'è qualcun altro qui? se guarda fa schifo questo c'è una attento oddio fatta fammi costruire ma c'è qualcun altro ci stanno ma cosa c'è? grande oddio lo sbaccarò sparando voglio prendere qualcosa importante ucciderlo adesso ok cosa ti devo dare? si no questo io li odio no credo mi manca una mitraglietta poi siamo a posto ho proprio un bel un bel R che sarebbe bello ah direi che qualcuno è già morto insomma che macchina c'è qui? ma è sparare la Ferrari pati hanno i fini dai sali andiamo in un'altra città vieni allora per quello dei pullman non c'è il pullman per la scuola è tutto il scuola mi serve il pullman li avevo appoggiati lì in ogni mese non so tanto li avevo appoggiati lì sopra Gabri li avevo appoggiati lì sopra dove li hai messi? c'è il mio letto non lo so sto subendo sulla montagna aspetta proviamo a scendere va bene dai andiamo in una città vediamo cosa possiamo andare si andiamo al lago andiamo qua c'è già il carburante esaurito non ci credo che cosa altro no io voglio questo prendilo te se lo vuoi dici va bene lo prendo carburante 12% non ci spara trovo l'ho fatta io la kill dai dai c'è la R aspetta mi sistemo un attimo l'inventario ok ok arrivo avevo messo il punto da città 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 no 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 non è la safe guarda la mappa c'è vicinissimo c'è vicinissimo ci sono cos'è sto boom boom no questo non è questo è l'ago l'anguindo qui c'è ancora un po' della roba ok si si vede ho trovato la mitraglietta poi c'è una scala di rame no di ferro volevo dire quindi vuol dire che qua ci sono i colpi del pompa mi sa che l'hanno presi tutto anche me poi siamo già in 31 speriamo ho messo il punto là va bene andiamo là io prendo un po' di materiale vai ma questo è gigante questo qui va bene però ce la rompi pur che cos'è cos'è qui ah no dove è qui qui va bene rompila tu vai doppio piano che io su questo qua levati macchina ok qui qui vai è aperta uh una cosa da uh cosa vampa no non ci credo mi ha buttato sotto dare i propri parti non dire che sono e loro non sentono basta cosa non la sentono ah la fai te allora la sento beh ma comunque io se mi scrivo destinato agli adulti mi fa lo stesso youtube ma youtube ce n'è solo uno andiamo qui lo c'è allora cerchiamo di vincere allora allora andiamo qua cosa si rompe che voce ho fatto pistolina oh questa è forte quindi ci sta vai a cercare perché non è giusto manca una metraglietta fai casino fai casino così vengono oltre esatto io non io non li sento mi sento da un'altra parte ma mia sta laggando un botto basta sparare ok finalmente abbiamo trovato la R via il bump ci serve il bump per caso ok ma ma c'era veramente c'è qualcuno qui dentro eccolo questa qui c'è una mira scrausa non mi ha preso nemmeno una volta una kill anche per me c'è una mira scrausa non mi ha preso una volta direi che possiamo lasciare questa città anzi ancora c'è un po' di esplorare ma se c'è ancora gente dove ha paura vado oltre io c'è una cassa però preghiamo ora oh sì rara io scommetto non so cosa però scommetto ho trovato uno scildone cosa ti serve no no niente io insomma ti posso dare uno scildino che è l'unico che è l'unico che mi rimane io non lo so che non lo so che non lo so che non lo so Scusi, dov'è? Dov'è? Ah Dai facciamo una scala e andiamo su È vero, sono l'anima, mi do uno Hmm Ma cos'è? Oddio C'è uno Ciao Gabi Ciao mamma E' lì Non c'è il mio amico? Comunque ti è Allora Sì sì ciao Allora Dov'è? Sono andato quel codardo Sono andato sopra la montagna Non ti preoccupare Non mi sta Ma non mi hai preso Ok ho preso la scheda Sì Ah no ancora qui Lo trasporto aspetta Ciao ciccio Ma c'è una metraglietta Io non ce la vedo Ho finito i compi del pompa però Qui stava fermo così Perché? Ci sarà il suo amico Non è che sarà andato solo pure Il suo amico Era già morto Boh Dov'è? Io non vedo niente Sto pingando 100 C'è qualcuno? 100 Camminare Andiamo in safe però Odio Sto sparando Lui Ma è questo? Scarsone Era qui il suo amico L'ho ucciso L'ho ucciso Ma dove sei? Sì sì Arrivo Ma tutti C'hanno una mirascrausa Ma stiamo incontrando Scarsone Stiamo incontrando Stiamo incontrando Solamente Scarsone Non so Facciamo questa partita Beh Scusa Chi Sto reggando Allora Attenzione C'è qualcuno? Ho visto un movimento Io ti vedo Ma è una gallina Ah no C'è stato un fight Tieni Tieni qui Tieni C'è scritto C'è scritto A sinistra Di premere un tasto Io sono a livello 9 Non me ne era accorto Era al 6 Io ne ho presi 3 È proprio bruciato Tutto Nemo via C'è qualcuno C'è qualcuno Dove l'hai visto È vero Sto sparando È là No Sono di qua Secondo me Ma dove sono? Sto arrivando con la macchina Sono dietro le piante Eccolo Ho ucciso Io ho 86 di vita Ah era quello lì che ci sparava Un medico Lo posso? Allora Ne prendo uno Ne ho già troppi Ecco Ecco Lassù ci sono le bende comunque Se le vuoi Sento ancora sparare Sono vicini Eccoli Sono là Sono in un fight Che mira L'ho preso Scusate fuori Se avete il coraggio No Ci sono messi il muro Eh sì Più avanti Dove andare Eccoli Oddio Ha detto C'è un razzo Non ce la sei Non mi hanno ucciso Non mi hanno ucciso Veloce Sono morto Come? Sicuro Sicuro Da safe Da safe Va bene Aspetta Basta questa musica Va bene Ciao a tutti Ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.